Buongiorno, buongiorno a tutti nella condivisione di questa bellissima giornata, di questa bellissima festa del respiro che si terrà a Forlì il 9 e il 10 di settembre. Nella condivisione appunto, perché cos'è che ci unisce tutti e che ci permette tutti di condividere, quest'aria che seppur è un po' malata è la condizione assolutamente fondamentale per la nostra vita e allora condividiamo le problematiche e le grandi possibilità di avere una respirazione adeguata e di avere un'aria salubre e di avere la possibilità di una cura adeguata con una prevenzione soprattutto in ambito delle malattie rare delle problematiche respiratorie. Quindi ritroviamoci tutti a Forlì il 9 e il 10 di settembre per questa grandissima condivisione all'insegna del buon respiro per tutti. Grazie, a presto!